Il maltempo con il forte vento che sta sferzando la città di Siracusa ha provocato diversi disagi, tra questi il curioso abbattimento del pesante cancello all'ingresso del Museo Regionale Archeologico Paolo Orsi, ma anche delle paratie di plexiglass divelte dalla cancellata perimetrale. Le forti raffiche di vento infatti hanno scardinato il cancello dai binari in cui dimorava per abbatterlo sulla stradella a fianco del museo. Nessun danno a cose o a persone, il maltempo sta imperversando su tutta la provincia. Le temperature sono precipitate e la pioggia continua a cadere a più riprese. Danni anche nella zona di Viale dei Comuni e in Viatisia, dove il vento ha abbattuto il gazebo che accoglievano gli ambulanti in occasione del periodo natalizio.